Sauros, si corre il rischio che nell'ex cementificio, bene confiscata la Camorra, si possa insediare un campo romeo? Così ha deciso la provincia, ma questo non lo faremo accadere, anche perché se 10.000 persone si mossero per evitare la discarica agli spinelli, la stessa gente si muoverebbe anche per questa finalità. Fermo restando che io credo che comunque una soluzione ai Rom va trovata, ma va concertata con l'amministrazione, in un'area nella quale ormai era in itinere, in fase terminale di approvazione, sia il finanziamento che un progetto esecutivo che teniamo, pensare che in quell'area, dopo che i cittadini per anni hanno atteso che si facesse una piscina, si possa indirizzare quel bene verso un altro utilizzo che certamente non porterebbe vantaggio alla popolazione, se certamente faremo sì che questo non accada. Questo è triste, anche perché vuol dire che questo centrodestra di quarto non conta nulla, cioè un centrodestra che finisce il proprio ruolo all'interno della montagna spaccata. Se una volta si fa indirizzare sul territorio la discarica, ora questo ci blocca il south, ma benedetto è Dio, veramente sarebbe una grande sciacura per questo territorio se il centrodestra dovesse vincere le elezioni.